salve a tutti amici del canale di arbor 82 buon pomeriggio partiamo con una nuova recensione allora ragazzi direttamente dal film del marvel cinematic universe spider man no way home abbiamo dinanzi a noi le search figures del nostro amichevole spider man di quartiere interpretato dal mitico toby mcguire ragazzi il primo spider man della storia di hollywood ragazzi il primo mitico spider man del 2002 finalmente abbiamo una bellissima action figure di questo personaggio qui e niente ragazzi questa figure mi è arrivata pochi giorni fa attendevo da tanto tempo ecco qui questo il suo packaging classico delle search figures bollino della qualità data machination bandai eccolo qui come vedete ragazzi è un prodotto limitato perciò affrettatevi se volete acquistare questo spider man qui perché parte che già sold out e niente comunque bandai come abbiamo detto questo è il laterale eccolo qua ecco qui la mitico action figure con tutti i suoi accessori ma ragazzi non perdiamo tempo apriamo il tutto e vediamo un po di che pasta è fatto eccomi qui ragazzi sono ritornato ho tolto tutti gli accessori dell'action figure dalla confezione vediamo un po come al solito è uscito questo foglietto qui illustrativo per far vedere come si intercambiano le mani e la testa eccolo qui semplice semplice e poi vediamo un po gli accessori di questo spider man partiamo con i due volti intercambiabili ragazzi guardate qui il viso di toby mcquai con il suo sorrisino guardate qui che figata il painting della pelle è eccezionale mi somiglia abbastanza dai all'attore tutti i capelli qui tutto spettinato eccolo qui fighissimo poi quest'altro viso qui secondo me questo è veramente il top del top ragazzi guardate qui l'attore veramente figo ragazzi questo viso di toby mcquai è veramente spettacolare magnifico proprio ragazzi andare qui con tutte le sfumature veramente eccezionale amici poi ci sono queste lagnatele qui eccolo qui questa è la più lunga ecco qui tutta fatta di plastica trasparente eccolo qui eccolo qui eccolo qui poi ci sono queste altre due più piccole eccolo qui che si agganciano ai polsi eccolo qui poi ci sono cinque paia di mani intercambiabili ragazzi vediamo piano piano tutte quante eccole qui le mani che sparano la lagnatela eccole che guardate qui che figata vediamone una se no mi cadono a terra sono veramente piccole eccole guardate tutto lo scalp della ragnatela come fatto bene ecco qui poi ci sono queste altre due mani a palma aperto vediamo sempre una ecco qua veramente figo veramente figo queste altre due mani con il dito indice che puntano gli altri spider come il meme come il meme eccolo qui ci sono questi altri due per impugnare le ragnatele eccolo qui con il buco in mezzo qui e poi ci sono questi altri due che servono per mantenere la maschera perché un'altra accessorio è proprio la maschera del supereroe tutta bella stropicciata quando la tiene in mano così ecco quando le impugno in mano veramente strepitoso tutta dettagliata ragazzi non c'è una sbavatura né niente veramente fighissima e niente ragazzi non perdiamo tempo adesso guardiamo un po il nostro l'amichevole spiderman di quartiere delle 6 figuarts finalmente un bello spiderman di toby maguire eccolo qui ragazzi guardate qui che figata super 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 dettagliato guardate la texture della sua tuta guardate qui tutte le ragnatele scolpite veramente una bomba guardate qui il ragno dietro la schiena veramente figo anche il ragno sul petto guardate qui guardate qui guardate tutta la texture mi fa impazzire guardate la maschera gli occhi sono di un bianco perlato bellissimo ragazzi bellissimo ma c'è però c'è c'è da dire una cosa su questa action figure che io avevo già fatto caso a questa cosa dalle prime immagini del web che ci furono di questa action figure e si tratta proprio di queste articolazioni qui ai gomiti guardate qui ragazzi guardate bandai cosa ha combinato articolazioni qui ai gomiti al gomito sono veramente un pugno nell'occhio qui ragazzi non si parla di pigrizia secondo me come ha detto in mitico ara di ara review shop andate sul suo canale che è fighissimo iscrivetevi al suo canale ed è un venditore eccellente che da lui ho acquistato questa figure però qui come stavo dicendo non si tratta secondo me di pigrizia ma secondo me proprio di strafottenza della bandai perché dato sì che lo spiderman tutti lo amiamo e soprattutto questo spiderman qui di toby mcguire è diventato una leggenda un'icona del cinema secondo me bandai ha pensato ma sì facciamo la blu questa articolazione chi se ne frega se abbiamo sbagliato tanto questo spiderman si venderà un botto e così è stato ragazzi che come ho detto prima questa action figure adesso è sold out se non se la trovate la trovate sicuramente aumentata però ragazzi guardate qui questa articolazione al gomito tutta blu quando dovrebbe essere rossa perché si trova proprio palesemente nella parte rossa della tuta vedete qui dovevano farla almeno metà articolazione rossa e l'altra blu all'interno anche qui vedete dovevano fare questa parte e qui rossa invece l'hanno fatto totalmente blu cose che la toy biz di vent'anni e passa fa ragazzi non ha fatto questo errore diciamo non è un difetto è proprio una strafottenza che ha avuto a bandai peccato veramente peccato perché quest'action figure ragazzi quando l'ho cacciata dal blister sono rimasto veramente sbigottito perché è veramente fantastico ma si vede proprio palesemente che è stratosferica è veramente bellissimo le articolazioni è super articolata guardate qui g a 360 gradi guardate qui qui la batting flangeo vedete che c'è anche tutta la texture dell'uniforme all'interno per non fare creare gap super articolato guardate qui che range di movimento guardate qua non c'è nessun gap vedete c'è anche il pezzo della tuta che continua qui sotto articolazione a go go come deve essere una degna figure di spider man super 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 articolata vedete in 3 microsecondi guardate come che posizione ho raggiunto adesso veramente una figata questa action figure peccato per queste questa strafottenza di bandai ragazzi peccato peccato davvero c'è a chi non dà fastidio sta cosa però credo che parecchi fan come me di questo spider man qui da fastidio poi se siete voi capaci a customizzare la figura fatelo io non ci metto mani perché a fin di che rovino solamente e capito è di noi farvi vedere la differenza diciamo un po il paragone a questo spiderman qui con lo storico super posable spiderman della toy biz del 2002 eccolo qui ragazzi guardate qui che figata in mezzo che sono tutti e due guardate questo spiderman qui c'è una figure che costa non voglio dire stupidaggi ma quattro volte in meno a questo qui dell'eserci figure guardate qui l'articolazione al gomito metà rosso e metà blu vedete addirittura c'è lo scalp della ragnatela sopra c'è ma di cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando poi addirittura di dita articolate qui ma di che cosa stiamo parlando bandai prendi esempio dalle vecchie case produttrici mannaggia mannaggia anche se hai fatto un capolavoro qui ma c'è ma lasciamo perdere ma comunque adesso vediamo come si intercambia adesso facciamo in diretta così facilmente voglio mettere la testa dell'attore ecco qua guardare qui che figata il nostro toby mcwire ecco qua veramente strepitoso ragazzi adesso proviamo a mettere anche qualche mano intercambiabile ecco qui il nostro toby che regge la sua maschera guardate qui che figata forse lo metterò più o meno così in vetrina guardate qui che bello eccolo qui ecco il nostro spider man che lancia la ragnatela ecco qui figata sud amici e adesso passiamo lo step finale dai sono giunto allo step finale cari amici e che dire l'action figure togliendo quella piccola diciamo un piccolo dettaglio articolazione del gomito però l'action figure è veramente eccellente top ragazzi è veramente bellissima per tutti gli amanti di questo spider man non posso fare altro che consigliarla e guardate qui l'ho messo così come il meme non posso fare altro che consigliarla ragazzi e perché veramente un piccolo capolavoro e ragazzi come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale ringrazio a mille a tutti i miei nuovi iscritti cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò se volete lasciate un like commentate commentate sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa action figure di questo questa cosa che ha fatto bandai è buon ragazzi un saluto da arbre 82 e dal mitico amichevole spider man di quartiere arrivederci